Ciao ragazzi e bentornati a questa quindicesima puntata sono sempre io Mr.Tai che siamo sempre su Watipack e aspettiamo il modder che ci rilasci un nuovo aggiornamento speriamo abbastanza presto così almeno possiamo vedere degli ultimi aggiornamenti delle varie mod nella scorsa puntata siamo andati a vedere lo spawner che ci ha consigliato la nostra spettatrice io adesso in questa puntata proporrei di fare una fabbrica di ossa o archi o frecce dipende cosa ci dropperanno gli scheletri per farciò avremo bisogno di abbastanza vetro quindi adesso vedremo un attimo quanto vetro c'era rimasto se ce n'era rimasto ovviamente un attimo bloccato scusate ragazzi perché sembra che ci sia molto lag in questa puntata comunque non ce n'è rimasto vetro si non ce n'è rimasto ok scarichiamo la roba che avevamo trovato allora le ossa le frecce la cassa stessa il carrello la palla ce la possiamo tenere il grano ci può servire per mangiare anche perché non abbiamo abbastanza a mangiare ragazzi non sto tenendo in considerazione il mangiare è grave sta cosa ok fava di cacao redstone che non va qua e flint che non va qua bene allora tin flint redstone ok nient'altro ok 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 facciamoci un panino e poi dovremo raccogliere abbastanza sabre già che ci siamo raccogliamo con la palla di cacao si si vai spacca la porta tanto via scassa tutto ah meno male che ho tappato vedete ragazzi ah qua le canne stanno crescendo bene allora andiamo a pulire quel po' di sabbia che c'è là giù visto per me puliamo tutto tutto quello che c'è dovremmo fare dei cubi di vetro però non ci basta semplicemente il vetro singolo avevo visto dei creeper qua in giro prima ok bellissimo mi piace questo posto puliamo tutto allora ragazzi non riesco a capire come mai oggi c'è più lag al solito e questa cosa ne scoccia veramente tanto speriamo che non venga anche nel video dobbiamo 40 basta anche perché va cucinato quanto prima possibile è vero dobbiamo fare anche i pannelli ragazzi adesso ci stiamo un attimo tolti un attimo dai binari diciamo del normale let's play visto che abbiamo trovato questo spawner proprio per questo spawner poi dopo torneremo a quello che stavamo facendo quindi pannelli e cose varie bene ok quanto carbone abbiamo? beh dico che c'è quante ne abbiamo? tutte queste piantine qua bruciate 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 vabbè un po' le teniamo ce ne abbiamo anche queste su quelle della gomma e le altre devono già bruciate ecco le avevo lasciate qui vabbè parte cucinare stavo cercando il carbone si ne abbiamo anche carbone ok e niente nel frattempo che fanno i vetri però possiamo vedere come fare le batterie così almeno come fare un pannello così almeno ci teniamo avvantaggiati allora vediamo un po' come fare un pannello non mi ricordo più allora ci va il dust del carbone 3 di vetro beh non è tanto 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 compiuto eh cazzo scusate la parolaccia ragazzi eeeh allora sto già diventando scemo sto già diventando scemo più di quel che sono eeeh papapà niente facciamo le scalette torniamo poi nell'altra puntata a fare queste cose ecco il vetro dove era vabbè un cubo eeeh legno facciamo le scalette altro legno bene allora 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7 3 un po' sta mouse allo sfondo ok speriamo di farcela con queste scalette eeeh quarantotto per una vabbè vabbè abbiamo fatto i 18 scalini che credo proprio non bastino saremo ancora tanto il vetro si scogliano mi scuso se in questi giorni ho fatto pochi video ma si cosa stavo dicendo non lo so mi scuso che se in questi giorni ho fatto pochi video ma ho avuto molte cose da fare allora siamo a 33 facciamone ancora arriviamo a 64 dai facciamo prima si io ovviamente pensavo di arrivarci così comunque buono non ho più voglia di farne qua vetro quanto siamo io devo scendere devo scendere basta fanno ancora uno e poi me ne vado via che non posso fare aspettare costanto di spettatori dai forno dai che è tutta colpa tua incazzatevi col forno non incazzate com'è è tutta colpa sua piccone l'abbiamo abbiamo tutto no si non vorrei rimanere ah ma sono scese di qua bene scala scaletta non sai che questo punto è sotto domandola velocizzatore e tat-tat-te-ro nooo un vero velocizzatore questo sicuramente ragazzi perché è veramente interessante mettere le scalette poi come le metto io la deficiente ancora pagina oh perché non lo metti qua ma guarda dove me l'aveva messa non ho voluto fare la sorpresa avevo voluto farlo scherzo lo stronzo ah sto dicendo uranio ce l'avevamo trovato l'altra volta sarebbe meglio pulirci ma ci puliamo poi un'altra volta adesso ne abbiamo voglia davvero ci siamo quasi io devo piazzare anche le torce qua ne ho dimenticato di tutto farlo mettiamocela una torcia qua va fa un po' più vuoi io tranquillo ho messo la scala sul copper quanto ce n'è ancora ah beh siamo arrivati dai oh al limite quelle che mancano ce le è daremo a mettere un'altra volta mi manca una sono sicuro guarda due ecco no una questa è sfiga vabbè stai tanto ne mancavano altre ho trovato uno spawner ragazzi nooo incredibile allora bene puliamo tutto quanto quello che c'è da pulire perché qua non ci rimarrà più niente poi questa zona qua non ci entraremo più dov'è sto stronzo ah pensavo che si fosse sbloccato allora puliamo bene mi sa che questa puntata la faremo in due parti e non manda la velocizzatore mi sa la discesa e io ancora non ho capito perché parlo così ah scatti ah porca vacca e ancora devo fare ragazzi nel video quello per iscrizione a second life ho un po' di video arretrati ci metterò quando forse sabato o domenica farò tutti i video arretrati che andavano fatti qua nel frattempo ci dobbiamo sbligare ok ma perché non l'ho messo già subito sopra che difficile ok sopra non serve però ci l'ho messo sotto non credo che serve adesso spawna è stato vedere vabbè comunque allora dobbiamo fare il muro lo faremo qua il muro per vedere come se ne scendono gli scheletri qua dobbiamo orca vacca mi sei dimenticato l'acqua mi sono dimenticato l'acqua ragazzi vabbè fa niente intanto ancora ce n'è da fare qua pipipi pipipi no ci serve l'acqua andiamo ecco io sono uno scemo di porno dai così a meno con la scusa ci portiamo via anche due scale su bene e niente allora ragazzi visto che sta per finire il video io interrompo il video qua oh ma che ca no ok ok ragazzi io interrompo il video qua e faremo tutto nella seconda parte del video faremo quindi rimango qua fermo non tocco niente e riprenderemo sicuramente nella seconda parte del video grazie ancora per la visualizzazione o come mi dicono come mi dice come mano corretto mi hanno detto per la non per la visualizzazione ma per la visione quindi o visione o visualizzazione non so come si dica grazie ancora e ci vedremo nella seconda parte di questo video ciao a tutti ragazzi